Questo video è stato prodotto da Elvega, Riccardo Zigarini, Nick Seiri, Giovanni Lanzoni, Matteo Bosi, Elia Morini e Luca Gemignani. James Bond, Agente 007 Casinò Royale di Ian Fleming Lettura di libri in pillole Illustrazione di Lorenzo Bisogni Tema musicale di Zero Capitolo diciottesimo Un volto di granito Fu straordinario udire la terza voce. Ai termini del rituale che si confaceva a quell'istante, si sarebbe dovuto piuttosto pensare a un dialogo col sottofondo dell'orribile rumore della tortura. I sensi intorpiditi di Bond si resero appena conto di quella voce. Improvvisamente si accorse di essere semicosciente, scoprì che poteva di nuovo vedere e capire. Dopo quella parola pronunciata sulla soglia della porta, il silenzio era ritornato. E Bond se ne accorgeva. Poteva perfino vedere la testa di Le Chiffre che si alzava lentamente e sul suo viso un'espressione di stupore che a poco a poco si trasformava in terrore. Fermo, aveva detto la voce con calma. Bond udì alle sue spalle il passo di qualcuno che si avvicinava lentamente. Buttatelo via, continuò la voce. Bond vide Le Chiffre ubbidire e il coltello cadde per terra con un rumore metallico. Cercava disperatamente di leggere sul viso di Le Chiffre cosa stesse accadendo dietro di lui, ma riusciva solo a scorgere l'incomprensione e il terrore cieco. La bocca di Le Chiffre si mosse, ma ne uscì soltanto un gemito acuto. Le sue grosse guance tremavano e gli cercava di raccogliere abbastanza saliva nella bocca per poter dire qualcosa, per fare una domanda. Le sue mani si agitavano confusamente sulle ginocchia. Una di esse si mosse lievemente verso la tasca, ma poi ricadde immediatamente. E i suoi occhi rotondi e sbarrati si abbassarono per una frazione di secondo. E Bond si disse che ci doveva essere una pistola spianata contro Le Chiffre. Ci fu un momento di silenzio. Smerch. La parola fu pronunciata come un sospiro e con un tono deciso, come se non fosse necessario aggiungere altro. Era la spiegazione finale, l'ultima parola. No! Disse Le Chiffre. Numero uno! La sua voce si spezzò. Forse voleva spiegare, giustificarsi, ma doveva aver capito, da ciò che egli poteva leggere sul viso dell'altro, che tutto era inutile. I vostri due uomini morti. Siete un idiota, un ladro e un tradittore. Sono stato mandato dall'Unione Sovietica per eliminarvi. Siete ancora fortunato perché mi resta appena il tempo di uccidervi. Secondo le istruzioni che ho ricevuto, vi avrei dovuto uccidere il più lentamente possibile. Ci avete messo in un tale pasticcio che non sappiamo ancora come riusciremo a venirne fuori. La voce tacque. Il silenzio della stanza era rotto soltanto dal respiro affannoso di Le Chiffre. Fuori un uccello cominciò a cantare e mille piccoli rumori indicarono che la natura si stava risvegliando. I raggi di luce attraverso le veneziane si fecero più intensi e fecero brillare le gocce di sudore sul viso di Le Chiffre. Vi riconoscete colpevole? Bond lottava contro l'incoscienza. Cercava di fissare il suo sguardo. Scuoteva la testa per schiarire le idee. Ma il suo sistema nervoso era del tutto intorpidito e i suoi muscoli non reagivano. Non poteva far altro che fissare il grosso individuo dagli occhi spalancati che si trovava di fronte a lui. Un filo di saliva uscì dalla bocca aperta e rimase sospeso al mento. Sì, disse la bocca. Ci fu un puff acuto, ma non più forte del rumore che produce una bolla d'aria che esce dal tubo di un dentifricio. Nessun altro rumore e improvvisamente sulla fronte di Le Chiffre si aprì un terzo occhio a livello degli altri due, proprio dove il suo grosso naso cominciava a sporgere dalla fronte. Era un piccolo occhio nero, senza ciglia né sopracciglia. Per un attimo i tre occhi fissarono la stanza, poi la faccia di Le Chiffre si afflosciò e i due occhi laterali si rivolsero lentamente verso il soffitto. La grossa testa si piegò di lato, la spalla destra, poi tutta la parte superiore del corpo, si piegò sul bracciolo della poltrona, come se Le Chiffre si stesse sentendo male. Ma ci fu soltanto il rumore dei suoi tacchi che raschiavano il pavimento, poi smise di muoversi. Bond avvertì un leggero fruscio dietro di sé, poi una mano gli afferrò il mento e glielo spinse indietro. Per un attimo Bond affondò lo sguardo in due occhi lucidi sotto una stretta maschera nera. ebbe l'impressione di vedere un viso scolpito nel granito, tra la falda di un cappello e il bavero alzato di un impermeabile. Non ebbe il tempo di vedere altro e la sua testa ricadde in avanti. Sei fortunato, disse la voce. Non mi è stato dato l'ordine di ucciderti. Hai salvato la pelle due volte oggi. Ma puoi dire alla tua organizzazione che la smersh risparmia soltanto per caso o per errore. Nel tuo caso, tu ti sei salvato la prima volta per fortuna e la seconda volta per errore. Perché dovrei avere l'ordine di uccidere tutte le spie straniere che giravano attorno a questo traditore come le mosche sugli escrementi di un cane. Ma ti lascerò il mio biglietto da visita. Sei un giocatore. Forse un giorno giocherai contro uno di noi. Sarà bene che ti si possa riconoscere come una spia. I passi si spostarono e si fermarono dietro la spalla destra di Bond. Ci fu lo scatto di un coltello. Un braccio coperto di tessuto grigio entrò nel campo visivo di Bond. Una grossa mano pelosa emerse da un polsino sudicio. Stringeva tra le dita, come una stilografica, un sottile pugnale. La mano si fermò per un attimo sul dorso della mano di Bond, sempre immobilizzato dal cavo elettrico. La punta del pugnale tracciò rapidamente nella carne della mano tre solchi paralleli. Un quarto solco unì le tre linee dove terminavano, proprio sotto le nocche delle dita. Il sangue cominciò a sgorgare dalle ferite in forma di emme rovesciata e presto sgocciolò sul pavimento. Il dolore non era nulla a confronto di quello che Bond aveva già provato, ma fu sufficiente a farlo ricadere nell'incoscienza. I passi attraversarono con calma la stanza. La porta si chiuse dolcemente. Nel silenzio, i piccoli rumori dell'inizio di una giornata estiva penetravano nella stanza attraverso la finestra chiusa. Sulla sommità della parete di sinistra erano due piccole macchie rosa. Provenivano dal riflesso dei raggi del sole di giugno su due pozze di sangue che si trovavano sul pavimento, a circa 30 centimetri l'una dall'altra. A mano a mano che il giorno trascorreva, le macchie rosa si spostavano lentamente sulla parete e lentamente diventavano sempre più grandi. Capitolo diciannovesimo La tenda bianca Quando si sogna di sognare vuol dire che il risveglio è prossimo. Durante i due giorni successivi, Bond fu costantemente in quello stato, senza poter riprendere coscienza. Assisteva allo svolgersi dei suoi sogni senza fare il minimo sforzo per modificarne la successione, e tuttavia parecchie delle sue visioni erano orribili e penose. Sapeva di essere coricato in un letto e di non potersi muovere. In uno dei suoi rari momenti di semilucidità si accorse che attorno a lui c'era della gente, ma non fece alcuno sforzo per aprire gli occhi e tornare alla realtà. Si sentiva più sicuro nell'oscurità e voleva rimanervi. Il mattino del terzo giorno si risvegliò bruscamente da un terribile incubo, tremante e coperto di sudore. Sulla sua fronte era posata una mano che egli associò al sogno. Tentò di alzare il braccio e di colpire il proprietario della mano, ma scoprì di essere legato ai fianchi del letto. Qualcosa di simile a una grande bara bianca lo copriva dai piedi fino all'altezza del petto. Sgranò una lunga serie di bestemmie, ma lo sforzo lo stroncò e le sue parole si smorzarono in un singhiozzo. Grosse lacrime di disperazione e di autocommiserazione gli riempirono gli occhi. Una donna stava parlando e a poco a poco le sue parole divennero comprensibili. Era una voce gentile e Bond capì che stava cercando di confortarlo, che si trattava di una persona amica. Stentava a crederlo, fino a quel momento era stato così sicuro di essere ancora prigioniero e che la tortura sarebbe ricominciata da un momento all'altro. Sentì che gli asciugavano dolcemente il viso con un panno fresco che odorava di lavanda e ricadde nei suoi sogni. Quando si risvegliò alcune ore dopo, la paura era completamente svanita ed egli si sentiva a suo agio e pieno di langure. Il sole illuminava la stanza e i rumori del giardino entravano dalla finestra socchiusa. In lontananza si sentiva il rumore delle onde che si infrangevano pigramente sulla spiaggia. Mosse la testa e udì il fruscio di una gonna. Una infermiera, seduta vicino a lui, si alzò ed entrò nel suo campo visivo. Era graziosa. Sorrise a Bond e gli prese il polso. Bene, sono contenta che vi siate finalmente deciso a risvegliarvi. In vita mia non ho mai sentito dei discorsi più terribili dei vostri. Dove sono? Chiese Bond ricambiandole il sorriso. Fu sorpreso di udire la propria voce ferma e chiara. Siete in una clinica di Royale e sono stata chiamata dall'Inghilterra per prendermi cura di voi. Sono qui con una collega, mi chiamo Gibson. E adesso restate tranquillo, vado a dire al dottore che vi siete svegliato. Siete rimasto in stato di incoscienza da quando vi hanno portato qui e cominciavamo a preoccuparci. Bond chiuse gli occhi e esplorò mentalmente il suo corpo. Il dolore maggiore era ai polsi, alle caviglie e alla mano destra, dove il russo lo aveva sfregiato. Non sentiva assolutamente nulla nella parte centrale del corpo. Probabilmente gli avevano fatto un'anestesia locale. Il resto del corpo gli doleva come se l'avessero malmenato senza requie. Sentiva ovunque la pressione delle bende e il mento e il collo non rasati grattavano fastidiosamente sulle lenzuola. Stava preparando nel suo cervello una breve lista di domande quando la porta si aprì ed entrò il dottore seguito da un'infermiera. Sullo sfondo vide il simpatico volto di Matisse, che malgrado il sorriso sembrava molto preoccupato. Si mise un dito sulle labbra e andò a sedersi vicino alla finestra. Il medico, un francese dal viso giovane e intelligente, era stato esentato dal suo servizio al deuxième bureau per occuparsi di Bond. Posò una mano sulla fronte del ferito, esaminò la curva della temperatura sulla tabella a capo del letto e quando parlò affrontò direttamente l'argomento. Avrete un mucchio di domande da fare, caro Mr. Bond, disse in un inglese eccellente, e io posso darvi la maggior parte delle risposte. Non voglio che voi facciate degli sforzi e perciò vi esporrò i fatti principali. Poi potrete parlare per qualche minuto con Messie Matisse, che desidera sapere da voi un paio di particolari. Veramente sarebbe troppo presto per una conversazione del genere, ma desidero che il vostro spirito sia tranquillo, in modo che noi si possa rabberciare il corpo senza preoccuparci troppo del morale. L'infermiera porse una sedia al dottore e uscì dalla stanza. Siete qui da due giorni, continuò il medico. La vostra macchina è stata trovata da un contadino che stava andando al mercato a Royal e che ha avvertito la polizia. Dopo qualche tempo Messie Matisse ha sentito dire che si trattava della vostra macchina e si è recato immediatamente alle Noctambule con i suoi uomini. Hanno trovato voi, Le Chiffre e la vostra amica Miss Lind in colume. Miss Lind, secondo quanto lei stessa ha dichiarato, non ha subito alcuna sevizia. Era in stato di shock, ma ora si è rimessa. I suoi superiori di Londra le hanno dato l'ordine di restare a Royal a vostra disposizione, fino a quando non vi sarete abbastanza ristabilito per tornare a Londra. Le due guardie del corpo di Le Chiffre sono state uccise con un proiettile da 35 nella nuca. Dall'espressione normale dei loro volti abbiamo dedotto che non devono aver sospettato l'aggressione. Li hanno trovati nella stessa stanza dove si trovava Miss Lind. Le Chiffre è morto, colpito da un proiettile simile in mezzo agli occhi. Eravate cosciente quando è morto? Sì, rispose Bond. Le vostre ferite sono serie, ma non correte alcun pericolo di vita, nonostante la perdita di sangue. Se tutto procede bene, guarirete completamente e tutte le vostre funzioni rimarranno integre, disse sorridendo intenzionalmente. Penso che dovrete soffrire ancora per parecchi giorni e io mi sforzerò di alleviare le vostre sofferenze nel limite del possibile. Ora che avete ripreso conoscenza, vi farò slegare le braccia, ma non dovete assolutamente muovervi e l'infermiera ha l'ordine di legarvi di nuovo quando sarete addormentato. Prima di tutto dovete riposare e riacquistare le forze. Per il momento soffrite di uno shock psichico e fisico molto serio. Per quanto tempo siete stato torturato? Chiese il medico dopo una pausa. Per circa un'ora. In queste condizioni è incredibile che possiate essere ancora in vita e permettetemi di congratularmi con voi. Pochi uomini sarebbero riusciti a sopportare quanto voi avete sofferto. Se vi può essere di consolazione, Messia e Matisse potrà dirvi che in tempi già lontani ho avuto l'occasione di curare un certo numero di pazienti i quali erano stati sottoposti al vostro stesso trattamento e non ricordo che nessuno di loro se la sia mai cavata come ve la state cavando voi. Il medico guardò Bond ancora per qualche attimo, poi si rivolse bruscamente a Matisse. Vi concedo dieci minuti, dopodiché vi manderemo via a forza viva. Se gli fate aumentare la temperatura vi considererò responsabile. Sorrise cordialmente e se ne andò. Matisse venne a sedersi sulla sedia lasciata libera dal dottore. E' un tipo simpatico, disse Bond. Mi piace. E ha detto al bureau, disse Matisse. E' vero, è un tipo simpatico. Un giorno o l'altro ti parlerò di lui. Pensa che tu sia un fenomeno. Io sono del suo parere. Ma lasciamo perdere per ora. Come puoi immaginare, ci sono ancora un mucchio di cose che devono essere messe in chiaro. Parigi, Londra e anche Washington, permesso del nostro buon amico Leiter, continuano a tempestarmi di domande. A proposito, disse incidentalmente, M. mi ha fatto una telefonata personale. Mi ha detto semplicemente di dirti che è orgoglioso di te. Gli ho chiesto se non aveva altro da dirmi. E M. ha aggiunto, ditegli anche che la tesoreria ha tirato un respiro di sollievo. E poi ha riappeso. Bond sorrise soddisfatto. Quello che più lo lusingava era che M. stesso avesse telefonato a Matisse. Una cosa inaudita. L'esistenza stessa di M. per non parlare della sua identità era sempre stata negata. Bond poteva perciò rendersi finalmente conto dello scalpore che l'affare aveva suscitato in quell'organizzazione dove non si pensava ad altro che alla sicurezza, spinta ai suoi limiti estremi. Il giorno stesso in cui ti abbiamo trovato è venuto da Londra un uomo alto e magro, con un braccio solo. Continuò Matisse, sapendo per esperienza che questi dettagli avrebbero interessato Bond più di ogni altra cosa e gli avrebbero procurato un grande piacere. Ha provveduto all'infermiere e a ogni altra cosa, anche la tua macchina in riparazione. Deve essere il capo di Vesper. Ha trascorso parecchio tempo con lei e le ha dato delle istruzioni precise perché vegli su di te. Il capo di esse, pensò Bond. Mi stanno trattando coi fiocchi. E ora, disse Matisse, parliamo di cose serie. Chi ha usciso le scifre? La smerche, disse Bond. Matisse emise un leggero sibilo. Oddio mio, esclamò. E così lo stavano sorvegliando. Che tipo era quell'uomo? Bond spiegò per sommi capi tutto quello che era accaduto fino al momento della morte di Le Chiffre. Faceva fatica a parlare e respirò di sollievo quando ebbe finito. Riandando con ricordo ai particolari della tortura, Bond si sentì di nuovo coperto di sudore e fu riassalito dall'incubo. Un profondo brivido di dolore scosse il suo corpo. Matisse si rese conto che stava pretendendo troppo. La voce di Bond si indeboliva sempre più e i suoi occhi cominciavano ad appesantirsi. Matisse chiuse il tacuino e appoggiò una mano alla spalla di Bond. «Perdonami, amico mio», disse. «Ora è tutto finito e tu sei al sicuro. Tutto è andato bene e il piano è riuscito magnificamente. Abbiamo comunicato alla stampa che Le Chiffre ha ucciso i suoi due complici e poi si è ucciso per evitare un'inchiesta sulla questione dei fondi del sindacato. Strasburgo e l'est della Francia sono in ebollizione. Da quelle parti, Le Chiffre era considerato come un eroe, una delle colonne del Partito Comunista Francese. Quella storia dei bordelli e delle perdite al gioco ha scosso l'intera organizzazione e i comunisti corrono di qui e di là come dei gatti rabbiosi. Per il momento, il Partito Comunista ha annunciato che Le Chiffre era stato già allontanato dal comitato centrale, ma... «Questa dichiarazione non servirà a gran cosa, soprattutto dopo l'incidente di Torre di non molto tempo fa. Non ottengono che un solo risultato, quello di far passare i loro capi per altrettanti idioti irresponsabili. Dio solo sa come faranno per rimettere le cose a posto». Matisse si accorse che il suo entusiasmo otteneva l'effetto desiderato. Lo sguardo di Bond si era fatto più vivo. «Un'ultima domanda e poi me ne vado», disse Matisse, dando un'occhiata all'orologio. «Il dottore mi piomberà addosso da un momento all'altro. Dove hai messo il denaro? Dove l'hai casciato? Abbiamo setasciato inutilmente tutta la tua stanza». «È proprio nella mia stanza», disse Bond sorridendo. «O quasi. Sulla porta di ogni stanza c'è una targhetta col numero della camera, dalla parte del corridoio, ben inteso. Ebbene, quando Lighter mi ha lasciato l'altra sera, non ho fatto altro che riaprire la porta, svitare la targhetta, nascondervi sotto l'assegno piegato e riavvitare. È ancora là. Sono lieto che un inglese stupido abbia potuto insegnare qualcosa a un francese intelligente». Matisse sorrideva contento. «Suppongo che tu mi voglia ripagare per la mia informazione a proposito dei Moons. Bene, ora possiamo considerarci alla pari. «Ah, dimentichavo di dirti che le abbiamo presi con le mani nel sacco. Erano individui senza importanza, assunti per l'occasione. Li manderemo al fresco per qualche anno». Si alzò in fretta, accorgendosi che il dottore era entrato nella stanza e fece per rivolgere un ultimo saluto a Bond. «Fuori!» gli disse il dottore. «Fuori e non fatevi più vedere!» Matisse ebbe solo il tempo di fare a Bond un cenno di saluto con la mano prima di essere buttato fuori. Bond udì un torrente di parole in francese spegnersi a poco a poco in fondo al corridoio. Si rilassò esausto ma confortato da ciò che aveva udito. Pensò improvvisamente a Vesper ma cadde quasi subito in un sonno agitato. C'erano ancora parecchie domande che attendevano una risposta ma si potevano rimandare a più tardi. Capitolo ventesimo La natura del male Bond faceva rapidi progressi. Quando Matisse venne a trovarlo tre giorni dopo la gente era seduto sul letto. La parte inferiore del suo corpo era ancora riparata dalla tenda bianca ma lui sembrava allegro e solo di quando in quando stringeva gli occhi a una fitta di dolore. Matisse, al contrario, sembrava abbattuto. Ecco il tuo assegno disse a Bond. Mi sono divertito ad andarmene in giro con 40 milioni in tasca ma ora sarebbe meglio che tu lo firmassi in modo che lo possa versare sul tuo conto al Credit Lyonnais. Nessuna traccia del tuo amico della Smerch a proposito deve essere arrivato alla vigilia a piedi o in bicicletta dato che né tu né gli uomini delle cifre almeno a quanto pare avete sentito niente. È esasperante. Sappiamo assai poco sulla Smerch e Londra ne deve sapere quanto noi. Washington pretendeva di sapere qualcosa di più ma si tratta delle solite confuse affermazioni dei rifugiati. Sarebbe un po' come chiedere a un uomo della stroda francese o inglese delle informazioni sul deuxième bureau o sul servizio segreto che cosa ne potrebbero mai sapere? Quell'uomo è venuto probabilmente da Leningrado a Berlino via Varsavia disse Bond. Da Berlino c'è un'infinità di strade aperte per l'Europa ora sarà tornato a casa e si starà facendo strapazzare per essersi lasciato sfuggire l'occasione di uccidermi. Penso che abbiano un vero e proprio incartamento su di me in seguito a un paio di lavoretti che ho eseguito per conto di M dopo la guerra. Si è certamente creduto furbo incidendomi quello sfregio sulla mano. Che cosa significa? Chiese Matisse e il dottore mi ha detto che i tagli somigliavano a una M con un codino ha detto che non significa nulla. Non è vero. Prima di svenire sono riuscito a vedere quel segno e poi l'ho rivisto altre volte quando mi cambiano le fasciature e sono quasi certo che si tratta delle lettere SH dell'alfabeto russo. Smersch è una contrazione di Smiert Spionam e cioè morte alle spie e quell'individuo crede di avermi bollato come spion è una seccatura perché quando tornerò a Londra M mi manderà di nuovo all'ospedale per farmi fare una plastica al dorso della mano ma non ha molta importanza ho ormai deciso di dare le dimissioni. Matisse lo guardò a bocca aperta. «Le dimissioni?» ripeté con un tono di incredulità «Perché mai?» Bond distolse lo sguardo da Matisse e lo posò sulle mani bendate. «Vedi mentre mi stavano picchiando a morte mi sono improvvisamente accorto di amare la vita. Prima di cominciare le chiffre ha usato una frase che mi ha colpito giocare agli indiani ha detto che era quello che stavo facendo ebbene penso che non avesse torto quando si è giovani continuò guardando sempre le bende sembra molto facile distinguere tra il bene e il male ma a mano a mano che gli anni passano la differenza si fa sempre più difficile a scuola è facile decidere chi siano gli eroi e chi siano i cattivi e si cresce con la speranza di essere un eroe e di uccidere il cattivo ebbene disse alzando lo sguardo e fissando Matisse negli occhi in questi ultimi anni io ho ucciso due cattivi il primo a New York un giapponese esperto in codici al 36esimo piano del grattacielo RCA a Rockefeller Center dove c'è il consolato giapponese ho affittato una stanza al 40esimo piano del grattacielo vicino potevo scorgerlo mentre lavorava nel suo ufficio dall'altra parte della strada avevo con me un collega della nostra organizzazione ci procurammo due Remington 3030 con merino telescopico e silenziatore ci chiudemmo in quella stanza e per giorni e giorni aspettammo il momento buono il mio collega doveva sparare un secondo prima di me aveva il compito di fare un buco nel vetro per consentirmi di sparare sul giapponese attraverso quello stesso buco i vetri delle finestre del Rockefeller Center sono assai spessi per attutire il rumore della strada tutto è andato bene il proiettile del mio amico ha forato il vetro ed è andato a perdersi chissà dove ma io ho sparato subito dopo infilando il buco che lui aveva fatto ho centrato il giapponese in bocca proprio mentre si stava voltando tutto stupito verso il vetro rotto bond aspirò qualche boccata di fumo dalla sua sigaretta un ottimo lavoro bello e pulito a quasi 300 metri di distanza nessun contatto personale l'altra faccenda a Stoccolma non è stata così piacevole dovevo uccidere un norvegese che faceva il doppio gioco in favore dei tedeschi era riuscito a far prendere due nostri uomini in seguito eliminati per quel che ne so per varie ragioni doveva essere un lavoro assolutamente silenzioso ho scelto la sua stanza da letto e un coltello ebbene non è morto molto in fretta come ricompensa per queste due missioni il servizio mi ha promosso doppio zero ci si sente furbi si ha la reputazione di tipi in gamba di duri doppio zero nel nostro servizio significa che durante le nostre missioni abbiamo ucciso almeno un uomo a sangue freddo tutto questo è bello e buono disse Bond continuando a guardare Matisse l'eroe che uccide il cattivo ma quando l'eroe e le scifre si mette in mente di uccidere il cattivo Bond e il cattivo Bond sa di non essere affatto cattivo ecco che appare il rovescio della medaglia cattivi e eroi si mescolano e si confondono naturalmente aggiunse vedendo che Matisse stava per protestare si può invocare il patriottismo per giustificare ogni cosa ma il concetto del bene e del male nel nostro paese comincia a essere un po' fuori moda oggi ci battiamo contro il comunismo benissimo se fossi vissuto 50 anni fa il conservatorismo che oggi ci governa sarebbe stato certamente considerato alla stessa stregua del comunismo di oggi e ci avrebbe dato l'ordine di combatterlo la storia cammina in fretta ai giorni d'oggi gli eroi e i cattivi continuano a scambiarsi le parti Matisse lo guardò con aria stupefatta poi si batte la fronte e mise una mano sul braccio di Bond vorresti dunque dire che quell'egregio le chiffre che ha fatto del suo meglio per trasformarti in un eunuco non deve essere considerato un cattivo dopo aver sentito le tue sciocchesse chiunque crederebbe che ti abbiano colpito in testa anziché sui e fece un gesto verso il letto aspetta che M ti affidi un altro le chiffre e vedrai come cambierai idea e la smerche ti dico francamente che non mi piace affatto l'idea di quei tipi che scorassano per la Francia per ammassare dei titraditori del loro meraviglioso sistema politico sei un dannato anarchico alzò le braccia al cielo e le lasciò ricadere con un fare disperato Bond si mise a ridere benissimo disse consideriamo ad esempio il nostro amico le chiffre è abbastanza semplice sostenere che era un uomo cattivo o almeno è semplice per me perché mi ha fatto del male se fosse qui non esiterei a ucciderlo ma per vendetta personale e non io temo per motivi di alta morale o per la salvezza della mia patria guardò Matisse per vedere fino a che punto il francese fosse stanco di stare ad ascoltare quell'esame introspettivo e quella divagazione su quei problemi che per lui non erano altro che una questione di dovere Matisse sorrise continua amico mio è molto interessante per me fare la conoscenza di questo nuovo Bond gli inglesi sono così strani sono come quelle scatole cinesi che si incastrano l'una nell'altra ci vuole parecchio tempo per arrivare al centro quando ci si arriva il risultato è deludante ma il processo per arrivarci è istruttivo e divertente continua sviluppa i tuoi argomenti può darsi che vi possa trovare qualcosa da usare col mio capo la prossima volta che affiderà un incarico sgradevole fece un soghigno malizioso ma Bond lo ignorò per spiegare la differenza che esiste tra il bene e il male noi abbiamo fabbricato due immagini che rappresentano i due estremi il nero più scuro e il bianco più puro ma facendo questo abbiamo leggermente barato Dio è una immagine limpida potresti contare tutti i peli della sua barba ma il diavolo a che cosa somiglia il diavolo chiese Bond dirigendo a Matisse uno sguardo trionfante è una donna rispose Matisse ridacchiando molto bene disse Bond ma ho riflettuto e mi chiedo da quale parte devo mettermi in fondo sono spiacente per la sorte del diavolo e dei suoi adepti come il bravo Lechiffre il diavolo è molto sfortunato e io mi metto sempre dalla parte della vittima non concediamo a quel povero essere nessuna possibilità c'è un libro sul bene che ci spiega come bisogna fare per essere buoni e tutto il resto ma non c'è un libro sul male che dica come bisogna fare per essere cattivi il diavolo non ha dei profeti per scrivere i suoi dieci comandamenti né una serie di scrittori per scrivere la sua biografia è giudicato per difetto non sappiamo nulla di lui tranne un mucchio di favole imparate dai nostri genitori o dai maestri di scuola così continuò Bond riscaldandosi Lechiffre stava magari compiendo una missione meravigliosa veramente vitale forse la migliore e la più alta di tutte con la sua esistenza di uomo cattivo che ho stupidamente contribuito a distruggere creava una norma della cattiveria grazie alla quale e solo per mezzo suo una norma del bene può esistere noi abbiamo avuto il privilegio durante il breve periodo nel quale l'abbiamo conosciuto di constatare e di misurare la sua perversità e ne usciamo migliori e più virtuosi bravo disse Matisse sono fiero di te dovresti farti torturare ogni giorno bisogna assolutamente che io pensi al male che possa fare prima di sera cominciamo subito ho qualche punto a mio vantaggio ma a pochi sfortunatamente aggiunse con tristezza ma ora che ho visto la luce ce la metterò tutta ah come mi divertirò vediamo un po' da dove posso cominciare omicidio incendio doloso rapina ma no non sono che dei peccatusci dovrò consultare il buon marchese de sad sono un bambino nient'altro che un bambino in queste fascende ma la nostra coscienza mio caro bond che cosa ne faremo mentre commetteremo qualche bel peccatone è un problema è una vecchiascia furba la coscienza sai vecchia quanto la prima famiglia di scimmie che l'ha fatta nascere dobbiamo metterci a studiare questo problema molto a fondo o correremo il rischio di sciupare il nostro divertimento naturalmente cominceremo col farla scomparire ma la coscienza è dura a morire sarà difficile ma se ci riusciremo potremo dare dei punti allo stesso per te caro James la cosa è molto facile puoi cominciare col dare subito le dimissioni la tua è una bellissima idea una magnifica partenza per la tua nuova carriera è così semplice chiunque ha un tasca un revolver della dimissione non devi far altro che premere il grilletto e così farai un bel buco nel tuo paese e nello stesso tempo nella tua coscienza un omicidio e un suicidio con lo stesso proiettile splendido che professione difficile e gloriosa quanto a me sono deciso ad aderire immediatamente a questa nuova causa ecco disse dopo aver guardato l'orologio ho già cominciato sono in ritardo di mesura all'appuntamento col capo della polizia si alzò ridendo è stato molto divertente caro James dovresti darti all'oratoria quanto poi a quel tuo piccolo problema che consiste nel non saper distinguere i buoni dai cattivi i farabutti dagli eroi e così via è proprio difficile in teoria la risposta si trova nell'esperienza personale tu sia un cinese o un inglese si fermò sulla soglia della porta tu stesso hai riconosciuto che lo chiffre ti ha personalmente fatto del male e che lo uscideresti se comparisse davanti a te ebbene quando sarai rientrato a Londra scoprirai che ci sono altri lo chiffre che cercano di farti del male di fare del male ai tuoi amici e al tuo paese M te ne parlerà e ora che hai visto un uomo veramente cattivo e sai quale aspetto può assumere il male ti metterai a cercare i cattivi per distruggerli e per proteggere nello stesso tempo coloro che ami e te stesso ormai tu sai come sono fatti e che cosa possono fare agli altri puoi mostrarti un po' difficile nella scelta delle tue missioni puoi esigere la prova che l'obiettivo sia veramente nero ma attorno a noi i bersagli neri non mancano affatto ti resta ancora molto da fare e lo farai e quando ti innamorerai quando avrai un amante una moglie o dei figli da proteggere la cosa ti sembrerà molto più facile Matisse aprì la porta circondati di esseri umani mio caro James è più facile battersi per loro che per dei principi ma aggiunse ridendo non deludermi facendoti tu stesso umano perderemo una magnifica macchina chiuse la porta dopo aver fatto un breve cenno con la mano ehi gridò Bond ma già i passi di Matisse si allontanavano in fretta lungo il corridoio con la mano